Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Oggi andiamo a caccia di fresco. Partiamo dall'area Sostel Brigantino nei pressi di Castellabate per andare a scoprire tre luoghi proprio all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Valle di Diano e Monti degli Alburni dove trovare il fresco. In realtà queste tre località le potete raggiungere sia partendo dalla Castellabate che da Pestum, Agropoli o dalla Certosa di Padula e destirli in tutta la giornata. Beh, loro sono incontri casuali che si possono trovare all'interno del parco. E qui siamo al primo luogo. Questo che vedete è il parcheggio delle grotte di Pertosa e Auletta. Il parcheggio è possibile sostare tutto il giorno e anche la notte, con un costo di 5 euro. Potete anche mangiare nelle panche attrezzate per il picnic. La particolarità di queste grotte in realtà è, oltre al fatto che sono di una bellezza disarmante per i colori, per l'ambientazione, sono percorribili a piedi. Gran parte di queste sono anche percorribili su un'imbarcazione. Quello che vedete non è Caronte, ma in realtà è la nostra guida che fa scorrere il cavo tra le mani per spostare la barca. Vi dico Caronte perché una volta all'anno all'interno delle grotte c'è la rappresentazione dell'accesso all'inferno dantesco, proprio utilizzando queste barche e simulando Caronte. In realtà, qualche suggerimento ve lo do. Se le visitate mettete un Q-Way perché dentro ci sono 15-16 gradi. Questa è una delle fotografie più belle. Lo chiamano il bacio. In realtà, se voi effettuate un selfie davanti a questa scultura naturale, avete un ingresso gratuito per San Valentino. Ma poi, insomma, andando avanti vedete i colori stesso. Lasciamo le grotte per andare alle gole del calore. Oddio, non è che andiamo a cercare il caldo. Si chiamano così perché il fiume si chiama calore. Anche qui, col camper, potete sostare con appena 5 euro al giorno, giorno e notte. Chiedete della signora Anna. Non lasciatevi sfuggire la possibilità di mangiare i famosi fusilli di quella zona, di filetto, perché veramente sono eccezionali. Con 4 euro potete farvi anche un chilometro in canoa oppure in pedalo con la guida all'interno di questi calori. Questa è esattamente il concerto naturale che voi vivrete all'interno di questa escursione. Proseguiamo perché l'escursione dura circa 800 metri, un chilometro. Vale la pena. Occhio perché se fate il bagno ci sono 12 gradi. Però in realtà alla fine di questa escursione c'è queste cascate dove effettivamente si può effettuare i tuffi, i bagni. Insomma, il colore, l'ambientazione è assolutamente regala delle grandi emozioni. Se poi non volete fare invece l'uso della canoa, del pedalò, a piedi potete fare lo stesso percorso costeggiando la gola e il torrente che c'è sotto, quello che avete visto nelle immagini in cui ero in canoa. Anche qui gli scorci naturali sono veramente più unici che rari. Ci sono dei passaggi così in mezzo al bosco, in mezzo alla natura. E questo è quello che vi dicevo invece. Alla fine, dove è possibile fare il bagnetto, il tuffo, qui si può sostare con il camper proprio davanti a questo spettacolo. Riprendiamo il camper, proseguiamo all'interno del parco. Qui arriviamo, quella fontana lì di acqua, siamo ai capelli di venere. Quella fontana ha dell'acqua, in assoluto penso che sia l'acqua più buona che posso aver bevuto in vita mia. Anche qui vedete che c'è, area picnic, parcheggio per il camper. Il costo è 3, ripeto, 3 euro al giorno. Avete il wifi, la sosta del camper. Andiamo avanti, lo vedrete dopo in quei 3 euro cosa c'è ancora. I capelli di venere sono un'oasi. C'è un mulino da cui nasce tutta la parte della storia di questi capelli di venere che in realtà sono una cascata, la vedrete tra poco, di una bellezza disarmante. La leggenda narra che un contadino si fosse innamorato di una venere che si era appoggiata ai bordi di questo fiume. Si era talmente innamorato che decise di tagliargli i capelli. E da lì nacque la leggenda. Quello che vi piacerà in assoluto di più sarà il contesto naturale. Ricordate che c'è il divieto di balneazione perché c'è il gambero di fiume che nidifica e ha la propria casetta proprio sotto le cascate e lungo questo torrente. Le immagini si riferiscono a una giornata di festa di domenica. Eppure guardate, non c'è una grande affluenza di persone perché sono luoghi nascosti a la maggioranza dei turisti, al turismo di massa. Luoghi di questa bellezza incantevole. Vi concedo della pausa ancora per guardare e per ammirare. Tutti i sentieri intorno a questa cascata e al fiume sono percorribili e devo dirvi sono anche ben puliti e ordinati. Torniamo al camper. In quei famosi 3 euro c'è l'uso dei bagni e guardate la pulizia maniacale di una domenica. L'area giochi per bimbi, il parcheggio del camper e dove poter mangiare nel bosco sui tavoli attrezzati. In più ci sono anche, lei è la persona che ci dà il benvenuto, in più se siete una comitiva avete anche a disposizione una casetta con dei tavoli più grandi. Lasciato ai capelli di venere, questo è l'essenza del parco nazionale. Non è inisuale assolutamente trovare dei luoghi come questi dove potersi fermare col camper, avere l'aria attrezzata dove poter mangiare, una fontana dell'acqua in sosta libera e godersi magari una notte a contatto pieno, diretto con la natura, con i colori, con i profumi. Con un cielo stellato non inquinato dà il famoso inquinamento luminoso delle grandi città. La penichella scatta, ve lo posso garantire, perché il fresco è piacevolissimo. Come dico spesso, fate i bravi perché a fare il cattivo ci penso io. Ciao!